Le spiagge del mare latino sono distanti da Roma solo cinque ore di strada. Tre volte alla settimana una diligenza vi porta chi voglia passare alcuni giorni a Porto d'Ansio o a Nettuno o vi si rega per fare la stagione dei bagni o per imbarcarsi per Napoli. Come un tempo queste spiagge sono ancora luogo di ritrovo e di svago per i cittadini dell'urbe giacché è fra le abitudini della vita romana recarsi almeno una volta all'anno a Porto d'Ansio come pure a Frascati, a Tivoli, ad Albano per dimenticarvi la noia della città. Un lungo soggiorno anche nel luogo più bello finisce con lo stancare. Ho provato questa sensazione io pure sulla fine della primavera del 1854 quando lo scirocco, flaggello di Roma, soffiava da più di otto settimane sulla città allorché il 24 giugno di buon mattino verso le 5 sono partito. Mi è sembrato di respirare più liberamente. Splendeva un sole stupendo. La strada era già affollata di persone che, con fiori in mano, si dirigeva verso la Basilica Laterana la cui piazza, ricorrendo la festa di San Giovanni una delle più solenni di Roma sembrava un mercato di fiori. Dalla campagna aspirava un vento dolcissimo. I prati scintillavano ancora della ruggiata notturna ma i campi erano ricoperti di grano da poco falciato. La strada rasenta i monti albani. A Fontana di Papa, dove è un'osteria solitare in mezzo alle vigne che prende il nome da una fonte fatta costruire in quel luogo da Innocenzo XII, ci siamo fermati. Qui è solito fermarsi anche il Papa quando nel maggio si reca alla sua villa di Porto d'Ansio per godervi la frescura marina. Regna Ivi una grande animazione. Tutti si siedono a tavola e mangiano maccheroni e ottime frittate. Vi si beve però del pessimo vino. Ad ogni momento sopraggiunge una carrozza o una persona a cavallo o una squadra di sbirri che torna da perlustrare la vicina foresta. Ho sentito uno di questi vantarsi di aver freddato il giorno innanzi con una schioppettata ombricante. Abbiamo visto anche arrivare da Porto d'Ansio un convoglio di galeotti seduti sopra un carro incatenati a due a due. Fra di essi vi erano dei bei giovani vestiti pulitamente con cappelli di paglia camicie linde cravatta di seta svolazzante. Giunti a Roma questi dovevano essere lasciati in libertà. Si porta loro del vino dei sigari e i birri stando vicino col fucile in spalla accettano essi pure quanto viene il loro offerto. Tali sono le scene che si possono godere a Fontana di Papa. Poi la strada corre per due ore entro le macchie che costeggiano le paludi pontine sino a Terracina coprendo la spiaggia del mare e che sono abitate da cinghiali da porcospini da bufali da tori dalla febbre e dai briganti che sbucano fuori di là per svaliggiare sulla via Appia o presso Cisterna o presso Forappio o sotto le rocche di Terracina i viaggiatori. Finalmente ci è apparso il mare raggiante di luce turchino tranquillo e abbiamo salutato le onde azzurre di Anzio l'antica città dei Volsci dove Coriolano trovò la morte e dove è stato ritrovato il capolavoro dell'antica scultura l'Apollo del Belvedere che ornava il suo tempio. Sono ormai nove anni che ogni estate mi delizio del mare. I vi ho trascorso le mie ore migliori e ho fatto le mie più belle escursioni. Mille immagini e mille ricordi sono sorti in me nello scorgere questo mare latino. Ma mentre riapparivano chiare e limpide nella mia mente le coste elisie della Corsica e della Campania i golfi superbi di Palermo di Cefalù di Siracusa e dell'Etna la spiaggia latina non ha punto corrisposto alla mia aspettazione. In tutti gli altri mari si vedono magnifici scogli capi promontori castelli e città torreggianti qua e là sulle rive ricchi oliveti scendenti sino al mare arancetti fioriti odorosi melagrani con i loro frutti infuocati. Chi può dimenticare alla vista del mare il magico lido di Sorrento i giardini di Palermo i vigneti che si stendono lungo la spiaggia stupenda di Acireale sul Marionio. Ritornando col pensiero a tutte queste bellezze la spiaggia del mare latino e la piccola città di Anzio mi hanno prodotto un'appena usa impressione. Per quanto abbia spinto l'occhio dalla parte di Ostia non mi è riuscito vedere che macchie deserte una spiaggia depressa di argilla e di sabbia alcuni spazi chiusi da palizzate dove pascolavano alcune mandrie la città è un complesso di ville in stile romano di casupole in pietra di capanne ricoperte di paglia che si stendono tutte intorno al piccolo golfo sulla cui spiaggia sono alcune barche tirate a secco e nel porto poche paranze alla locanda seduto dinanzi al cavalletto ho trovato un compatrioto tedesco distinto paesista pitture di marine da poco terminate stavano sulle pareti e provavano che l'autore non aveva perduto il suo tempo non gli ho celato la mia delusione ma egli mi ha portato alla finestra e mi ha fatto osservare il mare che scintillava di luce e all'orizzonte i monti che si profilavano in una tinta azzurrina non era trascorso una giornata che io non pensava più a tutte le amene riviere che conoscevo ed ero completamente conquistato dal nuovo fascino di questa solitaria spiaggia di ansio essa mi ha ricordato quelle del mio mar baltico meno belle e pittoresche e più di una volta alla vista di queste gialle coste senza rocce ho esclamato ma questo è proprio neocuren vangen sassau la spiaggia del mar baltico e quella del mar latino si somigliano fra loro come un'ingenua canzone popolare ricorda i classici dilli di teocrito né pussin né claudio né salvator rosa sarebbero certo qui venuti a trarre per le loro marine l'ispirazione nulla vi ha qui di epico di eroico di grandioso di ardito di bizzarro o di fantastico tutto è ampio largo indeciso ma tranquillo pieno di dolcezza idillico insomma quest'ampia lunga spiaggia ha un significato veramente lirico ed ora mi so spiegare l'attrattiva che essa aveva sui romani preoccupati sempre delle sorti del mondo intero i contemporanei di agusto di caligola di nerone questi era appunto di ansio amavano sottrarsi a tutte le preoccupazioni della capitale e godere per un mese nell'estate in ansio il dolce far niente come anche oggi è solito fare il papa quale pace scende negli animi nella solitudine di questo mare quella linea fine e dolcissima della spiaggia che si prolunga per miglia e miglia e si perde poi nei vapori quella sabbia morbida e scintillante quelle onde che si frangono di continuo in quel mare che muta ad ogni istante aspetto e tinta quel superbo capo di circe che emerge nel mare come un'isola e splende come un magico e grandioso zaffiro e quella lontana e piccola isola di ponza di cui le vette sorgono dalle onde quasi corolle di fiori quelle cento piccole vele che vanno vengono compaiono spariscono quel canto melanconico dei pescatori quel suono di flauti e di arpe tutto ciò fa sì che se al di fuori rintronasse il mondo intero del rombo del cannone dello scoppio delle granate qui non giungerebbe l'eco più lieve pochi giorni prima a Roma non vedevo l'ora in cui giungessero al caffè i giornali e mi precipitavo quasi sul monitore di Toscana sulla gazzetta di Genova sulla gazzetta universale di Augsburg appena arrivavano qui invece non si ha nessun giornale neppure i giornali di Roma periodico più innocente ancora di un'egloga di Virgilio e se si chiede a qualcuno che cosa fa Omer Pasha dove si trova l'ammiraglio Napier continua sinistra a resistere si ha una scrollata di spalle e nulla più quando mi affaccio alla finestra della mia stanza sotto la quale i pescatori napoletani seduti sulla sabbia raccorciano le loro reti scorgo tutto il magnifico golfo e il mio occhio può seguire tutta la spiaggia sino al capo Circeo su questa spiaggia presso Anzio sorge la bella villa del principe borghese in un parco assai trascurato ma ricco di elci e di olivi e più là il castello e la città di Nettuno bruna e pittoresca costruita sul mare e famosa in tutto il mondo per la bellezza delle donne e per la loro stupenda foggia di vestire la linea della spiaggia continua poi sempre fina e dolcissima e di lontananza in fondo appare confusamente un bianco castello questo castello stende sulla spiaggia e sul mare quasi un velo di tristezza e così come il capo Circeo destra un sentimento di omerica poesia ogni tedesco è portato a contemplarlo mestamente e l'animo suo non può che riempirsi di malinconia e di tristezza giacché quel castello segna un periodo grande e doloroso nella storia della nostra patria esso è la rocca di Ostura dove dopo la sconfitta di Tagliacozzo cercò rifugio l'ultimo degli Hohenstaufen con Radino e dove il traditore Frangipane lo tenne prigione e lo consegnò poi a Carlo D'Angio avido di sangue da quella rocca precipitò in mare il sole degli Hohenstaufen questo castello dalla mia finestra mi è sempre davanti agli occhi e mi richiama il desiderio della patria lontana e aumenta quella mestizia che è propria di tutta questa spiaggia non ho potuto avere pace sino a che non mi sono recato e non ho visitato le sue antiche mura ora posso di nuovo guardarlo tranquillamente anche là vogliamo andare perché dappertutto giriamo avendoci gli dei concesso queste ore libere quando i signori romani si recavano a villeggiare ad Anzio la città era vasta e il porto in fiore Nerone lo aveva costruito splendidamente e anche oggi si scorgono in fondo al mare i resti di un molo grandioso visibili quasi quanto quelli del ponte di Caligola nella baia di Pozzuoli se non che sin dal medioevo il porto cominciò ad andare in rovina e a riempirsi di sabbia e la città saccheggiata prima da Saraceni e poi distrutta da un terremoto oggi non è più che un villaggio nel 1700 Innocenzo XII restaurò il porto riparò la strada costruì alcune case e una fontana dopo di allora i papi vi si recarono di tanto in tanto prima che dalle paludi pontine sorgessero i miasmi che danno la febbre per godersi un po' di tranquillità e di riposo Pio IX fece acquisto recentemente della splendida villa edificata nel 1710 dal famoso cardinale Alessandro Albani dove dimorò per qualche tempo Winkelmann insieme col cardinale e con la principessa Albani con gli scavi fatti qui eseguire il cardinale non solo fece un affare eccellente ma riuscì anche adornare la sua villa in Roma di molte belle statue la villa inanzio è un palazzo signorile nel gusto dell'epoca sorge in mezzo a un vasto giardino ora maltenuto povero di fiori e di piante ma ricco di aranci qui qui il papa può condurre una vita più solitaria e più libera che a Castel Gandolfo deve però adattarsi alla vista delle miserabili casupole di paglia abitate da famiglie di pescatori e a una vista anche peggiore quella del bagno penale che sorge presso il moro ed è un ampio casamento chiuso fra il castello e la chiesa i galeotti lavorano tutto il giorno a cavare il fango dal porto hanno la catena nascosta sotto gli abiti e per lo più non presentano alcun segno speciale che li faccia riconoscere fra di essi vi sono molti giovani briganti questi galeotti rendono impossibile lo sviluppo di qualunque industria nel porto d'anzio perché esercitando essi tutti i mestieri tolgono ogni lavoro agli operai liberi risparmiando denaro essi possono vivere bene e corrompendo i loro guardiani riescono a godere molte agevolezze quando ottengono la loro libertà si stabiliscono generalmente nel luogo e sposano la loro innamorata un bagno penale ed una villeggiatura estiva del santo padre non sembrano cose fatte per andare insieme ma ciò è perfettamente romano perché una qualche contraddizione estonatura devono manifestarsi nella vita romana in questa paradisiaca natura il papa però vuole riedificare anzio ha ordinata la costruzione di molte case e ha detto che non vuole più oltretollerare la brutta vista di quelle capanne di paglia il porto va ogni anno sempre più prendendo incremento soprattutto perché si trova più vicino a Napoli che a Ostia Civitavecchia una società romana ha fatto acquisto di un piroscafo che parte da qui due volte la settimana per Napoli dove porta i viaggiatori giunti da Roma con la posta in 13 ore e con la tenue spesa di 5 scudi si va a Napoli questo piccolo commercio ha richiamato un po' di vita e un po' di industria ad anzio e sono queste le sole fonti di guadagno e le sole occupazioni dei suoi abitanti le campagne essendo quasi incolte non vi sono qui né vigne né oliveti solo vi si allevano delle mandrie che pascolano liberamente sulla riviera tutti gli oggetti di consumazione vengono dagli altri paesi Nettuno fornisce il vino e anche ogni giorno il pane fresco Gensano l'olio e le frutta e Cori nei Monti Volsci le ciliegie e i fichi gli alberghi sono piccoli e meschini una camera vi si paga 25 bagliocchi al giorno e vi si pranza come a Roma alla carta con 7 paoli al giorno corrispondenti a un tallero prussiano si ha pensione intera con 4 piatti a pranzo e 3 a cena i pensionati sono per lo più pittori tedeschi che vanno promuovendo il progresso nelle piccole locande dei villaggi della costa e dei monti e che possono quindi essere considerati come tanti missionari della civiltà nella campagna romana vi è però qui inanzio una cosa eccellente il pesce il golfo fornisce ogni giorno ogni sorta di pesci e financo delle splendide eragoste non sono però mai gli abitanti del luogo che li pescano perché essi non hanno tanto danaro per comprarsi una barca sono invece pescatori napoletani che vengono sulle loro vaghe imbarcazioni da pozzuoli da baia da portici da torre del greco da tutta la costa del loro incantevole golfo e passano qui vari mesi dell'anno a pescare dormendo nelle stesse loro barche altri napoletani abitano nelle capanne e sono generalmente quelli che per sfuggire alla leva militare hanno emigrato dalla loro patria per tutto il mediterraneo del resto si trovano questi marinai napoletani che sono i primi pescatori del mondo e se ne incontrano anche nelle isole spagnole e sulle coste d'africa dove pescano il corallo e così le loro graziose barche vario pinte solcano in ogni direzione questo mare ho dunque ritrovato qui e con piacere delle vecchie conoscenze la vivacità del loro gestire la loro mimica il loro dialetto il loro costume mi hanno fatto ricordare quelle scene pescherecce di cui sono stato tante volte spettatore sulle spiagge napoletane sono scene descritte dipinte sino alla sazietà ma che sulla riva del mare appaiono sempre più belle le loro barche venti all'incirca ciascuna delle quali porta almeno cinque uomini ed è governata dal padrone stanno a tre passi dalla mia finestra i pescatori generalmente lasciano la spiaggia la sera verso l'avemaria e rimangono in mare tutta la notte al mattino il pesce viene posto nei recipienti coperti di paglia e alla sera è imballato per essere spedito nella notte con i carri a Roma la sera si può godere una scena animatissima gli scrivani seduti a un tavolo al lume di una lanterna registrano la merce i pescatori stanno all'intorno occupati gli uni a trarre fuori dalle ceste il pesce altri a spezzare il ghiaccio e alcuni infine ad accomodarlo le varietà e le forme di questo pesce di mare sono veramente sorprendenti si vedono dei bellissimi rombi dei grossi palombi delle varie opinte murene delle sogliole dalle pinne pungenti delle triglie luccicanti delle sardine dei merluzzi in gran quantità di quando in quando vengono pescati anche dei delfini ed una sera sulla piazza ho visto persino due pescicani presi la notte precedente saranno stati lunghi dagli otto ai dieci piedi e la loro tinta turchino nerastra aveva un non so che di ributtante il mezzo per pescarli è l'amo quando si sente che lo hanno addentato si issano a bordo e si uccidono a colpi di mazza la loro carne bianca come quella di uno storione è mangiabile ma piuttosto dura questi poveri pescatori conducono dunque una vita faticosa alla giornata che può apparire poetica a chi sta contemplando seduto tranquillamente sulla spiaggia le loro barche illuminate che ora si vedono ora scompaiono sulle onde del mare un uguale spettacolo si può ammirare sul mar baltico ma fra questo e quello si nota la stessa differenza che passa fra il nord nebbioso e il sud irradiato dal sole il pescatore napoletano povero qual è mezzo nudo con i calzoni corti di tela in maniche di camicia col suo berretto rosso in testa è snello vivace cialiero pronto sempre allo scherzo al motto al canto al ballo accanto al pescatore taciturno e tranquillo del baltico sembra quasi una figura da teatro sino a un certo punto ideale credo che se si mettessero in una stessa barca un pescatore napoletano e un pescatore del baltico con l'obbligo di passarvi un'intera giornata uno dei due finirebbe per gettarsi in mare sarebbe certo impossibile ad un pescatore del baltico di avere una parte storica come l'ha avuta il pescatore partenopeo che può vantare il nome di masaniello masaniello non è già stato un grande uomo ma certo un uomo strano anima di pescatore avvezza alle tempeste ardito temerario ambizioso è stato un uomo del momento con come momentanea fu la sua grandezza spensierato folle senza uno scopo prefisso simile alle onde sempre agitate del mare che si accavallano le une sulle altre tra le figure storiche non saprei paragonarlo per origine condizione e per ombra di passeggera grandezza che a Giovanni di Leida il momentaneo re del Münster più questi era sarto e in Germania quella dei sarti è la classe più irrequieta veri napoletani pulcinella avventurieri nati Giovanni di Leida però è stato più grande di Masaniello perché in certo modo vagheggiò un'idea cosa possibile questa soltanto ai sarti e non ai pescatori l'uno e l'altro furono figure bizzarre fatte apposta per il teatro lirico ma era ben naturale che sul suolo napoletano l'antica stirpe dei pescatori che vi è più rappresentata che altrove avesse una volta anche un re ho visto a napoli nella pinacoteca un ritratto di Masaniello opera dello spadaro suo contemporaneo è rappresentato nel costume dei lazzaroni cioè scamiciato col petto scoperto abbronzato dal sole e con la pipa di gesso in bocca e appunto così stanno seduti dinanzi a noi sulla spiaggia i pescatori napoletani se non che il pittore gli ha posto in testa un berretto alla spagnola ornato di penne rappresentando così in modo felice la singolare contraddizione della sorte di quest'uomo la sua fisionomia non ha né nobiltà né espressione la sua faccia è larga grassa di una mollezza quasi femminile il suo sguardo ha qualcosa di astuto di equivoco questo ritratto è prezioso perché è fedele e contemporaneo in esso si riconoscono le caratteristiche del pescatore napoletano e Masaniello infatti non fu né un mezzo eroe né un mezzo orellier quale il melodramma l'ha voluto rappresentare esistono altre pitture dello Spadaro che rappresentano scene storiche dell'epoca di Masaniello fra le quali la rivolta del mercato dove il re pescatore arringa vestito da Lazzarone il popolo sul davanti lo si vede vestito alla spagnola a cavallo sulla piazza dove molti nobili sono impiccati o stesi a terra dalle archibugiate Alfredo de Rumon ha descritto recentemente con vivaci colori nella sua opera I caraffa di Maddaloni la vita di Masaniello questi ricordi ci hanno intanto allontanato dai pescatori della spiaggia d'Ansio le loro barche meritano però ancora uno sguardo sono veramente pittoresche dipinte come sono a graziosi rabeschi sullo sfondo bianco vi si scorgono delfini sirene stelle e in mezzo a questi segni profani o mitologici la Madonna o Sant'Antonio protettore dei pescatori per ripararsi dagli ardori del sole sopra la barca è stesa una tenda di tela l'armonia di tutti quei colori neri bruni e bianchi il timone e i remi le vele spiegate le reti ammucchiate producono un effetto veramente pittoresco il porto d'Ansio formicola al presente di queste barchette presso al molo vi sono altri legni napoletani e tartane venute a caricare legne e carbone giacché da questa riviera ricca di boschi vengono portati ogni anno a Napoli combustibile e legname da costruzione per un milione di scudi si vedono infatti qua e là sulla spiaggia d'Ansio e di Nettuno grossi mucchi di carbone cotto nei boschi dai quali i neri bufali traggono pure sulla riva gigantesche querce vengono talvolta attaccati a un carro fino a 16 bufali punzecchiati perché camminino con una specie di lancia il regno di Napoli possiede vaste foreste in Calabria ma preferisce prendere il legname dalle paludi pontine perché scendendo i boschi fino al mare ed essendo la spiaggia piana e facile le spese di trasporto sono di gran lunga minori in questo ambiente vario semplice e primitivo fra questi pescatori e marinai le figure della città non attirano quasi nessuna attenzione qua e là un pittore seduto e riparato da un ampio ombrello bianco sta facendo uno schizzo della spiaggia o dei pescatori tali apparizioni sono diventate ormai caratteristiche e proprie di ogni bel sito d'Italia in qualunque bella giornata di estate o di primavera si può essere certi di vedere sorgere in un posto o in un altro ovunque è un bel paesaggio come un fungo l'ombrello bianco di un pittore ne ho incontrati perfino nelle regioni più remote della Sicilia e ricordo anzi che arrampicatomi un giorno nelle ore più solitarie sulle rocce di Taormina non potei trattenermi da ridere vedendo giù da lontano l'ombrellone vera sotto un paesista di Weimar raramente invece ho visto dei pittori intenti a disegnare le spiagge del Sunland che pure sono così belle e superano anzi come quelle bizzarre di Gross e di Klein Cooler per grandiosità le spiagge latine la ragione è che manca loro la magia delle tinte nel nord la tinta del mare è o troppo splendente o dura o confusa essa non ha questa fine nebbia d'aria e di luce né il magico riflesso né il confondersi insieme di dolci luci scintillanti questa chiarezza eterea di smeraldo ma che cosa non può dipingere il pittore ciò che ad un profano pare senza significato è colto è colto dall'ingegno creatore che ne fa un'immagine espressiva altrettanto avviene nella poesia lirica i pensieri le ispirazioni sono inesauribili la natura non ha che da essere bene osservata e sentita essa cela forme e pensieri infiniti che un uomo privo di fantasia neppure può sospettare ed anche su questa costa tranquilla vi sono originali apparizioni solo è difficile esprimerle rappresentarle perché delicatissime finissime non riproducibili con tratti grossolani ma lasciamo da parte l'album degli schizzi e lanciamoci in mare l'aria marina narcotica molto più grave di quella del nord invita qui veramente a cercare sollievo in seno alle onde la sabbia in fondo al mare è bianca come la neve soffice quanto il velluto e si estende sino a largo si vedono per ogni dove persone che si bagnano qua e là sulla spiaggia sorgono capanne formate e coperte da rami d'albero tutti questi bagnanti vengono da Roma da Velletri dai monti ma non mai prima del luglio perché gli italiani in giugno trovano l'acqua ancora troppo fredda per prendere il bagno si ritiene inoltre che non sia igienico oltrepassare i 20 bagni e ciò almeno sembra per le condizioni speciali del clima io stesso del resto ne ho fatta l'esperienza nell'isola di Capri l'acqua pare sia qui più eccitante che nel nord e quindi prendendone un numero un po' forte ne risentono il sonno e l'appetito su questa spiaggia non vi è ombra di vita balneare non vi sono quelle facili relazioni di società quasi familiari che fanno sulle spiagge dei nostri mari una festa dei mesi d'estate qui ogni famiglia ogni persona vive a sé il forestiero non ha altro luogo di ritrovo che l'unico caffè del porto dove sotto una tenda allo stesso tavolino democraticamente e con quella bella confusione di classi tutta speciale all'italia seguono il bagnante e il pescatore mezzo ignudo che approfitta tranquillamente dell'ombra della tenda per fumare la sua pipa di gesso senza prendere né caffè né altro alcuni ufficiali del genio e un capitano pontificio che mi diverte col suo grazioso dialetto veneziano sono le persone con le quali generalmente mi trattengo a chiacchierare passato il luglio la maggior parte dei bagnanti lascia ansio incominciando il pericolo delle febbri anche ora in cui il calore è spesso insopportabile e si fa sentire fin dalle sette del mattino dopo calato il sole l'aria diventa umida e il venticello tiepido e molle che espira dal mare è veramente caratteristico non è prudente allora rimanere fuori di casa il bel chiarore della luna sulle foreste sulla spiaggia e sul mare che rende nel mar vartico così piacevole a quell'ora la vita nell'aria aperta non può qui essere goduto che dalla finestra impero che una sola di queste notti passate all'aperto basterebbe a procurarle febbri e forse anche dopo alcuni giorni la morte è pericoloso su questo mare lasciarsi adescare dalle sirene bisogna dunque adattarsi a passeggiare lungo la riva prima del tramonto facendovi ricerca di conchiglie e di piccoli gamberi marini sono questi animalucci grandi al più come un quarto della mano e hanno quasi la forma del ragno corrono con una velocità straordinaria e allora quando si fa per afferrarli il più delle volte spariscono sotto la sabbia come spettri nel teatro qui dove tutto si mangia perfino le rane i porci spini gli usignoli questi gamberetti vengono mangiati vivi dopo essere stati spogliati delle loro squame su questo lido più volte mi è accaduto di pensare alla brillante ambra gialla che si raccoglie sulle nostre spiagge e che qui il mare non produce qui esso somministra invece tutte le specie più preziose del marmo se ne potrebbero raccogliere a carri e dei più rari che le onde gettano sulla riva vi si vede il verde e il giallo antico il preziosissimo alabastro orientale il porfido il pavonazzetto il serpentino azzurro per comprendere donde vengano tutti questi marmi preziosi basta dare dalla spiaggia uno sguardo in fondo al mare sorgono ivi ancora le fondamenta di quei palazzi marmore romani che si specchiano nell'acqua e per la distanza di un chilometro da terra la spiaggia d'anzio non è che un seguito di mura e non solo si possono anche oggi vedere massi grossissimi resti di costruzioni ma distinguere pure che sono opere romane in peperino collegate con la pozzolana indistruttibili lavorate egregiamente a forma di reticolato tutta questa spiaggia quindi non era che un seguito di grotte di bagni di templi di palazzi di cui le fondamenta in gran parte sussistono in fondo al mare o sotterrate nella sabbia delle sabbie della spiaggia su questa sorgevano le stupende ville marmore degli imperatori qui si approdava nella dissolutezza caligola si sprofondava egli aveva una speciale predilezione per anzio aveva anzi formato il disegno di venire a stabilircisi qui festeggiò le sue nozze con la bella l'oglia paolina qui faceva le sue orge nerone che era nato proprio ad anzio e vi aveva impiantato una colonia qui fece il suo trionfale ingresso tirato da bianchi testrieri di ritorno dalle sue rappresentazioni teatrali in grecia anche prima anzio era stata dimora preferita dei romani attico lucullo cicerone mecenate augusto vi ebbero le loro ville e di quali fresche montagne o belle spiagge d'italia questi favoriti della fortuna non ebbero le loro ville di quali monumenti deve avere allora brillato questa spiaggia a giudicare dai frammenti che quasi testimoni storici sono da secoli e secoli gettati sulla spiaggia queste rovine spargono nell'idillio di anzio una nota melanconica e i pensieri i ricordi che esse destano valgono ad accrescere fortemente l'incanto di questo soggiorno la mancanza assoluta di storia la separazione completa dal mondo e dalle sue vicende sono quelle che danno uno speciale carattere alle nostre spiagge del nord qui in italia invece non si rinviene un solo angolo di terra per quanto solitario e remoto dove le memorie severe e classiche del passato non sorgano dove non invitino a riflettere sul continuo avvicendarsi delle sorti del genere umano sedendo qui sulle rovine di un palazzo romano al rumore delle onde che si frangono contro di esse tornano inconsciamente alla memoria i versi di Orazio e la vista del capo Circeo ci richiama alla poesia omerica e quella della lontana Astura ci trasporta in altre storie in altra poesia sicché ci circondano tre periodi dell'umana civiltà tre diversi generi di poesia omero Orazio e il poeta degli hoenstaufen wolfram di eschenbach la dea fortuna aveva inanzio un tempio famoso e aveva qui i loro templi anche Apollo venere afrodisiaca esculapio e nettuno l'idea che su questa spiaggia deserta circondata di prati brillò in tutta la sua divina bellezza attorneato da altre stupende creazioni artistiche l'Apollo del Belvedere aumenta il pregio di questo luogo già di per sé amenissimo la statua meravigliosa fu qui scoperta ai tempi di Giulio II e anche quelle che sono nelle gallerie del Vaticano e del Campidoglio e del Palazzo Albani furono in seguito per la maggior parte qui rinvenute come del resto anche il famoso gladiatore morente parecchie statue di imperatori i busti di Adriano di Settimio Severo di Faustina i satiri gli atleti le statue di Giove e di Esculapio i tripodi stupendi e i meravigliosi altari del Campidoglio dedicati ai venti sopra un'altura della spiaggia dove ora sorge sulle fondamenta di un tempio antico un piccolo forte dal quale appoggiato a una vecchia e gigantesca spingarda del Medioevo tutta arrugginita un soldato contempla il mare sono tuttora in piedi le basi di antiche colonne e vicino a queste ventidue splendidi capitelli corinzi di Cipollino le loro volute e i loro ornamenti sotto l'abaco sono particolarmente geniali e io non ricordo di averne mai visto di simili rappresentano conchiglie delfini gamberi di mare l'architetto conformò gli ornamenti al luogo e molto probabilmente questo tempio era dedicato a Nettuno ad Anzio ho trovato una persona che si diletta di antichità in Italia non v'è paese di qualche importanza che non abbia il suo storiografo locale o il suo archeologo ad Anzio è il canonico Lombardi presidente dell'amministrazione del porto il quale abita all'ultimo piano del casamento che comprende il bagno penale ho trovato questo degnissimo uomo intento a decifrare un'antica iscrizione di sotterrata dai galeotti il Lombardi ha già scritto un libro su Anzio e attende ora ad un'opera più vasta sulla storia e sulle rovine della sua città ho letto con piacere e con gratitudine il suo pregevole lavoro oramai ho percorso tutta questa spiaggia sino a Tastura e dappertutto ho trovato avanzi di ville di bagni frammenti di marmi di mosaici fra i quali ricorderò il pavimento mosaico abbastanza ben conservato che è di fronte alla torre solitaria di Astura sulla spiaggia presso il ponte è impossibile figurarsi quanti e quali stupendi edifici abbiano i romani innalzato lungo questo mare tutta la spiaggia dalla Toscana sino a Terracina da Terracina a Napoli attorno al Golfo fino a Salerno non dov'è essere che un seguito di palazzi marmorei di templi di bagni di palestre una manifestazione continua della magnificenza romana e quella e quale fosse lo splendore di tutte queste costruzioni si può anche oggi giudicare dalle rovine che giacciono in fondo al mare chi avesse percorsa questa lunga riviera e veduti tutti questi edifici destinati al piacere al diletto gareggianti per importanza con le città avrebbe certamente potuto ammirare una grande manifestazione della civiltà ora invece queste amenissime spiagge sono nude e deserte non offrono altro allo sguardo se non le torri cadenti innalzate nel medioevo contro le invasioni dei Saraceni torri che possiamo vedere sparse lungo tutte le coste d'Italia e delle isole del Mediterraneo e che danno loro un aspetto magico quasi direi cavalleresco qui non mancano però neppure monumenti moderni che ricordino altri siti e altre regioni la bella villa Mencacci che sorge in una fresca valletta vicino alla spiaggia fu per esempio e non è molto abitata per vari anni da un re in esilio che aveva vissuto in America e guerreggiato per un trono sulle belle sponde del Tago intendo parlare di Don Miguel principe esecrato dal Portogallo che venne qui fuggiasco senza corona e visse a lungo in questa solitudine vicino ai Galeotti in un esilio che fu certo senza conforti perché se a noi che nulla abbiamo da espiare questa spiaggia solitaria ai confini delle paludi pontine può apparire poetica ad un re spodestato dovette riuscire insopportabile e con un carattere quasi vendicativo Don Miguel ammazzava qui il suo tempo cacciando continuamente nei boschi sopra pastura un giorno scomparve mi hanno narrato in ansio che solleva trattenersi volentieri con i pescatori e che non si vergognava appunto di parlare della sua disgraziata lotta per la corona del Portogallo contemplando la villa Mencacci la fantasia vola lontano al Brasile e al Portogallo alle burrascose vicende della loro storia un altro avvenimento moderno ricorda questa spiaggia lo sbarco cioè nel 1848 degli spagnoli chiamati da Pio IX Fuggiasco per salvare gli stati della chiesa trovavasi allora il papa in esilio nella rocca di Gaeta la coblenza dell'emigrazione italiana nel 1848 e nel 1849 mentre i francesi marciavano su Roma gli austriaci occupavano Bologna e i napoletani si avanzavano verso Terracina gli spagnoli che da molto tempo non erano più apparsi in Italia sbarcarono a Porto d'Ansio ed occuparono tutto il paese fino ai monti di Albano e della Sabina erano a quanto mi si è detto della bella ed allegra gioventù ma malvestita e peggio armata i francesi non tardarono a surrogarli e i giovani ufficiali di Valenza e di Barcellona abbandonarono a malincuore i monti di Albano dove erano stati rapiti dalla bellezza delle donne alcune delle quali ancora ricordano con un sospiro i poveri cavalieri di Spagna Porto d'Ansio non vanta belle donne né bei costumi essendo la popolazione composta di elementi diversi si distingue al contrario sia per bellezza femminile sia per originalità di costume la piccola città di Nettuno che sorge pittorescamente sulla spiaggia e di cui le nere mura si specchiano nel mare vi si arriva da Porto d'Ansio in tre quarti d'ora facendo una bellissima passeggiata a metà strada in mezzo ad un bosco sorge la splendida villa del principe borghese signore di tutto il circondario e all'orizzonte si scorgono i monti volsci e il capo cerceo immerso in una luce superba che ricorda con la sua forma imponente e caratteristica i promontori più belli d'Europa quali quelli dell'isola di Capri e il monte pellegrino di Palermo per giungere a Nettuno beh è un'ottima strada che passa davanti alla villa del principe borghese e attraversa un bosco di sugheri e di elci dove sono parecchi ruderi romani scavando sotto la strada è facile scoprire dei pavimenti in mosaico sulla spiaggia la strada è ancora più bella la sabbia è ora gialla ora scura ora di un bel rosso acceso ora di tufo vulcanico i cardi turchini della costa del Mar Bartico vi crescono abbondantemente come pure la scabbiosa e la camomilla invece però dei salici degli ontani delle foreste diabeti sono qui le piante dei paesi meridionali e i mirti dai fiori bianchi il mastice e le fragole e il ginestro dai fiori color oro che abbonda su tutte le coste del Mediterraneo e l'olivo selvatico splendono qui pittorescamente le malve arbore con i loro candi di calici e i rovi con i loro variopinti fiori e grandioso si innalza fra le piante minori il classico acanto con le sue belle foglie corinzie e i fiori rosa o bianchi qua e là si vedono anche dei cactus e l'aloe quasi piante esotiche l'usignolo allieta con la sua presenza ancora questa spiaggia nonostante sia passato il giorno di San Giovanni epoca in cui gli uccelli cessano qui di cantare e cedono il posto al grillo anacreontico l'usignolo non può staccarsi da questo verde da questo fresco mare e fino ad Astura le paludi pontine continuano a risuonare dei suoi armoniosi gorgheggi una quiete profonda regna nell'antico paese di Nettuno e nei suoi dintorni Nettuno attualmente è circondato ad antiche torri e da scure mura merlate che hanno più di una volta resistito agli assalti dei saraceni nessun pescatore o marinaio avviva lo specchio dell'acqua poiché non vi è porto e la popolazione è dedita alla pastorizia sulla piazza di Nettuno sorge un'antica colonna solitaria emblema di colonna antichi feudatari del paese le strade sono profumate dai garofani che ornano quasi tutte le finestre e che agitati dal vento ondeggiano i loro fiori color rosso ardente fiori così belli annunciano donne più belle ancora infatti nei garofani che rallegrano le finestre si può quasi vedere la bandiera nazionale delle donne di Nettuno il loro costume non è di aspetto mengaio meno vivace di quello dei purpure e i fiori e cosa degna di nota che in Italia anche i più piccoli paesi sembrano quasi altrettante repubbliche diverse per usanze per tipo per foggia di vestire si potrebbe dire che ogni castello ogni villaggio forma una popolazione a sé bisogna vedere le donne di Nettuno in un giorno di festa per potersi fare un'idea precisa della bellezza e dell'eleganza del loro costume nazionale nei giorni di lavoro non sono che i minimi particolari quelli che indicano la moda del paese come ad esempio la foggia di portare i capelli divisi in mezzo al capo e lisci senza trecce nella parte posteriore rattenuti da un nastro verde per le ragazze rosso per le donne maritate e nero per le vedove basta dunque vedere una donna per sapere subito se sia nubile maritata o vedova ho assistito qui a due feste a quella di San Giovanni e a quella di San Luigi nella prima ho visto una processione con musica per le vie la croce era completamente coperta di garofani e tutti portavano fiori vi prendevano parte donne e fanciulle ed era veramente uno spettacolo stupendo vedere per quelle coupe e strade tante belle figure e così splendidi abiti ecco in che consiste il costume delle donne di Nettuno in capo portano una specie di fazzoletto a strisce d'oro ed argento che sporge sulla fronte una gonnella di seta o di velluto color rosso scuro ricamata sul fondo in oro o in argento scende l'oro dai fianchi e sopra questa portano un corsetto imbroccato ugualmente ricamato sul petto e sulle maniche poi anelli orecchini braccialetti di oro e coralli danno ancora maggior risalto alla bellezza della persona e all'originalità del loro costume il colore dei vestiti è a volte verde rame o violaceo o anche nero o azzurro scuro pare anzi che l'eleganza e la bellezza di questo costume nobiliti il portamento delle donne io le ho viste infatti passeggiare per le piazze del loro paese in rovina con l'incedere maestoso delle romane e di quelle certo non meno belle parecchie con un profilo greco nobilissimo tutte con capelli corvini e occhi scintillanti atti a soggiogare il cuore più duro allorché i mortaretti che formavano quasi una ghirlanda su un antico muro sono scoppiati i cannoni hanno sparato e ho visto tutte quelle donne con i loro abiti rossi e oro avvolte nei vortici di fumo di quell'artiglieria popolare mi è sembrato di trovarmi dinanzi a un olimpo popolato da divinità ideali però anche senza il loro costume festivo sono belle del pari delle donne di Nettuno si vedono ogni giorno in gruppi numerosi lavare patriarcalmente i loro panni alla fontana pubblica non attaccano mai discorso con gli stranieri sono timide come gazzelle e rispondono appena solo con gli occhi bassi al saluto la festa di San Luigi ha un altro carattere è una festa popolare e mi ha ricordato il mio paese natio sulla piazza del mercato era stato innalzato qualcosa di simile a una forca ornata di fronte di fronte dalla trave superiore pendeva legata a una fune una pentola oscillante dei giovani a cavallo agli asini a degli asini dovevano correndo cercare di far destramente con un bastone un foro nelle pareti della pentola ma la colpissero o no questa si rivoltava e bagnava il cavaliere fra le risate generali degli spettatori colui che riusciva a colpire la pentola riceveva in premio due paoli da un prete che esercitava le funzioni di giudice del campo quando la pentola fu rotta e il gioco terminato ebbe luogo con la tradizionale tombola il premio consisteva in una pezza di stoffa in cotone che pendeva da una finestra un ragazzo estraeva i numeri che venivano spesso annunciati con i nomi proverbiali che loro si sogliono dare ed era un motivo di nuove risa sempre però si rideva con quella naturalezza e quella convenienza che sono doti caratteristiche preziose del popolo italiano di natura civile ed educato così vivono e si divertono i 500 abitanti di Nettuno in certo modo separati dal resto del mondo fra il mare le paludi pontine e le strade poco frequentate che portano da una parte ad Anzio e dall'altra a Velletri Nettuno però possiede campi e giardini somministra il vino che si beve ad Anzio ed ogni giorno invia a questo a questo porto un carro di pane bianco perché là si fa solo pane grossolano ho bevuto a Nettuno del vino squisito cosa non facile in questi anni in cui il dio bacco è travagliato da fatale malattia un cittadino del luogo ci vuole un giorno condurre nel suo tinello come qui chiamano la cantina è sceso segretamente in un nascondiglio sotto il suolo e ne ha tratto fuori uno stupendo vino rosso quale non ne avevo più bevuto da Siracusa in poi sulla spiaggia di Nettuno ogni coltivazione cessa oltrepassata appena la città cominciando quasi subito in tutto il loro squallore le paludi pontine che si estendono fin verso Terracina non più abitanti sulla riva solo sorgono qua e là solitari alla distanza di circa due miglia l'una dall'altra le antiche torri medievali l'aspetto di questa solitudine di questo deserto di questa mancanza di coltivazione è grandemente imponente pare quasi di non trovarsi più sulle classiche coste d'Italia ma nei deserti dell'India o dell'America il frangersi continuo delle onde lo scintillare del sole estivo sulla bianca piana monotona spiaggia il cupo bosco infinito che accompagna per qualche centinaio di passi il mare lo stridore dell'avvoltoio e del falco il volo dell'aquila che altissima si libra sulle ali in larghe spire il calpestio e il mugito dei tori selvaggi l'aria le tinte l'aspetto delle cose e degli elementi danno veramente qui l'impressione di un mondo deserto e selvaggio il 28 giugno il pittore ed io partimmo lungo questa spiaggia per recarci ad Astura distante circa tre ore di cammino il mattino era di una limpidezza straordinaria il mare tranquillissimo e il capo cilceo avvolto in una tinta rosea e davano tutti il quadro di un aspetto del tutto merico a Nettuno comprammo vino e pane e quindi proseguimmo la strada ci fermammo a fare colazione su di un vecchio tronco d'albero presso una carboniera e provammo un piacere simile a quello di Ulisse quando si assise al banchetto apprestato lì da Circe nel suo palazzo era veramente delizioso gustare un buon sorso di vino in quella profonda pace su quell'omerica spiaggia dinanzi all'azzurro di quel mare tinto in rosa all'orizzonte fino a questo punto tutto era andato benissimo ma giunti là dove il bosco scende fino al mare cominciamo ad avere dei timori non erano già i banditi che ci davano pensiero ma le mandri di tori e di bufali che vagano colà completamente liberi non sorvegliati dai pastori tutta quanta la spiaggia fino a Terracina è coperta di numerose mandri di tori di buoi di vacche dalle corna lunghissime di quella forma tutta classica della campagna romana e che si vedono scolpite nel partenone attorno all'ara del sacrificio le loro corna sono lunghe quasi tre piedi molto divergenti arditamente contorte grosse chiare di bel colore quasi in tutte le case del mezzogiorno si vedono queste corna tenute come amuleti contro il malocchio e piccoli cornetti vengono portati dai principi alla catena dell'orologio e pendono al collo dei ragazzi dei pescatori i buoi sono selvaggi e grandemente pericolosi il solo pastore li può governare stando a cavallo con la sua lancia più pericolosi ancora sono i bufali questi vivono a branchi e vagano solitari liberi come i cinghiali frequentano volentieri gli stagni e le paludi e nuotano con grande agilità quando si attraversano le paludi pontine o il basso piano di pesto si vedono molti di questi mostri neri e selvaggi immersi negli stagni dai quali stendono fuori talvolta sbuffando solo le tozze teste il bufalo cammina sempre col capochino a terra e guarda sospettoso dal basso in alto non si serve delle sue corna che sono come quelle del montone rivolte indietro ma rovescia a terra con la sua fronte di bronzo l'uomo che insegue quando l'abbia raggiunto quindi gli pone il ginocchio sul petto e lo calpesta fino ad ucciderlo i pastori domano questi pericolosi animali con la lancia passano loro attraverso il naso un anello e allora li attaccano al carro e se ne servono per trasportare grandi pesi voluminosi blocchi di pietra o tronchi d'albero giganteschi con l'alte della bufala viene fatta la provatura che è una specie di cacio molto difficile a digerirsi la carne del bufalo è poco stimata perché dura la comprano gli ebrei poveri del ghetto che non ne mangiano generalmente altra i bufali abbondano nelle paludi pontine nella squallida riviera di cisterna di conca e di campo morto covo della febbre dove perfino l'assassino non viene ripreso quando vi si è rifugiato gli uomini che custodiscono queste bestie menano una vita misera sono febbricitanti e di poco inferiori agli indiani della prateria il possibile incontro di questi animali ci dava assai pensiero appena giunti nei boschi li vedemmo numerosi sulla spiaggia lasciati liberi percorrono sempre la stessa strada e sempre nelle stesse ore al mattino escono dalla foresta e vengono al mare per bevervi l'acqua salata quindi o si sdraiano sulla sabbia o pascolano lungo la costa vi passano tutte le ore calde e quando sulla sera comincia la temperatura a rinfrescarsi si muovono e pascolando lentamente sulla riva si inoltrano nei cespugli sino a che non arrivano nel fitto dei boschi dove trascorrono la notte per scendere il mattino appresso nuovamente al mare alla vista di tutti quegli animali rimanemmo alquanto perplessi era impossibile passare di là perché avrebbero potuto tagliarci la via molti essendo proprio in riva al mare proseguire lungo la spiaggia era pericoloso perché sarebbe stato necessario passare in mezzo ad essi e qualche animale furioso avrebbe potuto inseguirci nella direzione del capo cerceo pensammo se non fosse stato più prudente tenerci vicino alla macchia e questo partito ci sembrò il migliore scendevamo intanto sempre scendevano intanto sempre nuovi branchi la qualcosa ci fece argomentare che ve ne dovevano essere ancora nei boschi e se ne scorgevano infatti fra i cespugli di mirto ad un tratto scorgemmo due magnificitori dalla fronte splendente arrestarsi e fissarci allora prudentemente pian piano ci avviamo verso il bosco e in poco tempo ci troviamo nel fitto degli alberi è impossibile figurarsi dei boschi più adatti per i briganti che questi di astura non sono già formati da alte querce ma da fitte macchie di sugheri di olivi selvatici di lentischi di rovi neri di mirti coperte di piante rampicanti di edera bellissima che forma delle volte quasi moschea boschereccia impenetrabili ai raggi del sole e alla pioggia vi erano dei cespugli di mirto di un'altezza straordinaria e tutto intorno un odore di selvatico che penetrava ai sensi il terreno non è piano ma accidentato percorso da piccoli ruscelli in molti punti paludoso vi abbondano di istrici le tartarughe e le serpi noi vi trovammo spesso delle penne di galli selvatici avanzi del pasto di qualche aquila ciò dava ancora maggiore risalto alla cupa poesia di questa riviera ci riuscì alla fine di scansare i branchi dei bufali e dei tori e quando ne incontravamo qualcuno in ritardo ci arrestavano ci arrestavamo e restavamo silenziosi e tranquilli finché non fosse passato e dopo aver superato i rivi fossi e sievi sboccammo finalmente di nuovo sulla spiaggia e ci fermammo per riposarci piacevolmente all'ombra di un muro cui era addossato uno steccato destinato a racchiudere una mandria anche questo muro era certo come lo dicevano chiaramente alcune vestigia di mosaico un resto di qualche villa romana rimaneva un'ora sola di strada per giungere ad Astura e nel camminare lungo questa triste spiaggia mi colse quella profonda malinconia che nasce nel vedere cosa che rammenta una grandezza scomparsa non è solo il ricordo della tragica fine del giovane Corradino e della stirpe degli Ohestaufen che può qui rattristare l'animo specialmente di un tedesco mi influisce anche e per molta parte l'aspetto della contrada stessa vorrei poterla descrivere con le parole come il mio compagno di passeggiata l'ha saputa riprodurre nelle sue tele che spero saranno presto note a tutti sarebbe bene che un qualche istituto artistico della Germania pubblicasse un album degli Ohestaufen il luogo dove ci eravamo fermati era circoscritto dalla parte di terra dalle paludi pontine su cui imponenti si ergevano i monti volci che scendono al mare e dalla parte del mare dal capo Circeo che simile a un'isola si perde nell'azzurro del cielo sulla spiaggia sorge ad un dato punto una piccola cappella abbandonata e deserta e pochi passi più là emerge dalle acque il castello di Astura un piccolo quadrato di mura merlate con in mezzo una torre la cappelletta e il castello sono gli unici edifici che si è dato vedere in questa vasta solitudine per quanto si volgesse da ogni parte lo sguardo non si scoprivano che due ombre nere sui merli del castello e due vecchi pescatori seduti contro il muro taciturni e quasi annientati dal calore del sole fulgente che stavano intrecciando una rete di giunchi per i pesci mentre la loro barca si dondolava sulle onde correvano gli ultimi giorni del 1268 quando perduta la battaglia di tagliacozzo giungevano su questo lido fuggiaschi e pieni di terrore il giovane corradino il principe federico d'Austria il conte galvano lancia con i suoi figli insieme coi due conti della gherardesca parenti dell'infelice ugolino che i versi di dante hanno immortalato venivano da roma dove come narra il cronista sabba malaspina aveva cercato rifugio dopo la sconfitta e dove era rimasto guido da montefeltro quale vicario e senatore a rigo di castiglia corradino era giunto colà senza pompa alcuna non come capo di un esercito ma come uno che abbia tutto perduto e che non cerchi che di salvarsi di nascosto e quasi fuori dei sensi ma in roma erano giunti dal campo di battaglia anche i suoi nemici Giovanni e Pandolfo Savelli Bertoldo e molti guelfi con l'intenzione di sollevare la città cosicché gli amici avevano consigliato al giovinetto di non indugiare a cercare scampo nella fuga si diresse con i suoi compagni verso il mare con l'idea di recarsi a Pisa e di imbarcarsi per la Sicilia cercò una barca e la ottenne dagli abitanti del villaggio di Astura dove si imbarcò e salpò ma avuta le notizie a Giovanni Frangipani signore di Astura e riconosciuto dai gioielli che corradino aveva regalati esseri fuggitivi personaggi ragguardevoli salì su di un'altra barca li raggiunse a forza di remi e li ricondusse nel castello in vano corradino supplicò che lo lasciasse fuggire coi suori che non lo volesse consegnare nelle mani di Carlo avido di sangue in vano gli ricordò la gratitudine che doveva alla casa di Svezia avendo i frangipani ottenuto grandi feudi dall'imperatore Federico ed essendo stato da questi lo stesso Giovanni creato cavaliere in vano corradino promise ampia ricompensa e si dichiarò pronto anche a sposare la figliola di frangipane il signore di Astura era titubante e commosso forse dalla gioventù dalla grazia dalla sventura di corradino incerto come dicono i cronisti da qual parte avrebbe potuto trarre maggior guadagno se da corradino o da Carlo d'Angiò quando dinanzi al castello arrivò Roberto di Lavena capitano delle galere angioine che ingiunse al frangipane di consegnarli i prigionieri narra Sabba Malaspina che il frangipane fece condurre i poveri fuggiaschi in un altro castello vicino per non essere costretto a consegnarli a Roberto contro sua volontà e prima che questi avesse soddisfatto al pagamento della pattuita ricompensa ma quest'altro castello non è nominato intanto arrivava dalla parte di terra con fanti e cavalli il cardinale Giordano di Terracina governatore per la santa sede della contea della campagna egli pure richiese la consegna dei fuggiaschi il vile traditore intascato il denaro di Giuda consegnò gli infelici che aveva ospitato nelle mani dei loro acerrimi nemici furono condotti a Napoli prima attraverso i boschi e i monti di Palestrina poi attraverso le meravigliose campagne poco tempo innanzi percorse vittoriosamente il 29 ottobre la mannaia troncava la testa di Corradino per la prima poi quelle di Federigo dei valorosi conti della Gerardesca del generoso Galvano Lancia fratello di quella bella bianca che aveva partorito Manfredi a Federigo il grande e per ultimo quelle dei suoi giovani figli Galeotto e Gerardo che erano stati poco prima strangolati nelle braccia del padre presso la torre di Astura in quella solitaria spiaggia mi tornarono alla memoria tutti gli altri luoghi famosi nella storia degli Ovestaufen che io ho visitato nelle mie peregrinazioni per l'Italia mi è apparsa la bella figura di Manfredi biondo ricciuto sui campi di Benevento quale Dante lo vide con una doppia ferita alla fronte e al petto mormorante mestamente i son Manfredi nipote di Costanza imperatrice lasciai errare lo sguardo sul mare ricco di memorie e lo rivolsi laggiù dove giace la bella Sicilia dove sorge in mezzo a giardini sempre in fiore sulla spiaggia più amena del mondo quel castello di Palermo nel quale visse Federico e da dove era partito per la Germania pensai al duomo di quella stessa Palermo a quell'oscura cappella dove riposano dentro ai loro sarcofaghi di poffido rosso Enrico VI Federico e le due costanze rappresentanti con la corona rappresentati con la corona in testa e con la dalmatica di seta il cui orlo è ornato da iscrizioni saracene entrammo quindi nel castello un ponte in muratura lo unisce alla spiaggia e un ponte elevatoio dà accesso all'interno nella piccola corte sorge la torre ottagonale che termina con una specie di terrazza dove rimane un unico e arrugginito cannone la guarnigione composta di otto uomini quando entrammo stava facendo gli esercizi nella piccola corte e Don Pasquale luogo tenente di Astura la stava guardando dal terrazzo con l'aria di chi avrebbe voluto essere ovunque fuorché lì ci condusse nel suo piccolo e meschino alloggio e ci fece vedere degli arabeschi pompeiani assai ben fatti dipingendo egli trascorre le sue giornate in quella solitudine il luogo tenente ci disse che ciascuna di queste torri della costa è attualmente custodita da otto uomini comandati da un maresciallo o da un ufficiale e che le prescrizioni di vigilanza sono severissime temendosi da parte dei mazziniani un colpo di mano visitammo tutto il castello composto di piccole e melanconiche stanze dove il ragno tesse le sue tele e lo scorpione trova un ricovero nelle infinite screpolature dei muri la vista però tanto sulla pianura verdeggiante quanto sull'impido mare dove ora si vedono ora spariscono le vele delle barche pescherecce è bella e affascinante la torre sembra fatta apposta per un bardo che vi suoni l'arpa e vi muoia col canto del cigno nell'ora in cui il sole scende in mare e tinge di color porpora il capo Circeo in quell'ora regna sul mare una tale tranquillità tale uno spirito di quiete che non si può descrivere si direbbe che il sonno e la morte si librino sul mare e che quella barca che gira come un'ombra il capo Circeo porta forse il dio del sonno spargente calma e riposo sulle onde tutto qui allora spira dolcezza mentre il capo Circeo riporta le avventure omeriche alle immagini dell'Odissea la solitaria torre di Astura parla delle grandi e non meno poetiche memorie dell'epoca degli Oestaufen quanti ricordi non risvegliano questi nomi degli Oestaufen e del provenzale Carlo D'Angio ritornano alla memoria i personaggi del Parsifal di Wolfram e di Eschenbach e Corradino diventa Parsifal che cavalca per il mondo per trovare la sacra coppa di sangue del Graal Elisabetta di Baviera diventa Erzeleide sua madre che non lo vuole lasciar partire e così si presentano Goffredo D'Angio il Cavalier Gavino e Fere Fitz Arturo e Titurello e il castello di Graal nella foresta selvaggia i Saraceni i Trovatori i Pellegrini i Penitenti e i Saggi dell'Oriente Astura è la torre del romanticismo è la sede della poesia tedesca in Italia essa appartiene ai romantici come la Grotta Azzurra di Capri io in nome di questi ne ho preso silenziosamente possesso dichiarando proprietà nazionale della Germania questo leggendario castello la sola torre risale ai frangipani tutto il resto è di epoca posteriore giacché nel 1286 i siciliani che nei Vespri avevano preso una splendida vendetta del sanguinario re Carlo guidati dal loro ammiraglio Bernardo da Sarriano lo distrussero tutto ad eccezione della torre ed uccisero anche il figlio di frangipani anche ora sulle mura esterne del castello si vedono le armi di Colonna che ne furono in seguito proprietari dopo i frangipani divenne feudo dei Gaetani quindi passò in possesso dei Malabranca degli Orsini e dei Colonna i quali lo vendettero nel 1594 a Clemente VIII presentemente a Stura e feudo dei Borghese altri ricordi storici si ricollegano ancora a questo castello innanzi al ponte che serve di accesso notai degli avanzi di un pavimento in mosaico quasi ricoperti dalla sabbia e mi accorsi subito che il castello sul mare sorgeva sopra le fondamenta di una villa romana assai vasta di cui rovine erano visibilmente sul fondo del mare ed anzi in alcuni punti ne emergevano ancora sorgeva l'antica villa sopra un banco di sabbia e molto probabilmente appunto per questo Plinio dà il nome d'isola ad Astura Colonia d'Ansio la località in antico è possibile che si trovasse per un piccolo tratto d'acqua staccata dal continente Strabone infatti dà a quel braccio di mare il nome di Storace Plutarco lo chiama Astura e ne parla quando descrive la tragica fuga qui avvenuta di Cicerone a dire il vero deve recare non poco stupore ai miei lettori che questo luogo solitario appartato possegga altre tristi memorie e che molto tempo prima di Corradino sia stato un punto di sventura dedicato forse alle Eumenidi Cicerone vi possedeva una villa e gli ne fa menzione spesso nelle sue epistole in una in una delle quali scritta adattico appunto da Astura è detto est abitava volentieri questa villa che più delle altre gli offriva quiete e riposo poco prima della sua morte venne qui ed Astura gli fu fatale vi si era rifugiato in primavera non appena aveva saputo che sarebbe stato compreso nelle liste di proscrizione Plutarco narra che si era qui imbarcato per fuggire in Macedonia presso Bruto ma che aveva poi cambiato idea ed era tornato a terra con l'intenzione di recarsi a Roma per cercare di commuovere Ottaviano partì da Astura e prese la via della città ma fatte appena 12 miglia fu colto da paura e tornò indietro rapidamente salito su di una rettiga si abbiò verso Gaeta ma raggiunto per via dai cavalieri che lo inseguivano in un punto che viene anche oggi additato fu da quelli ucciso strana coincidenza lo stesso Ottaviano fu preso nella medesima Astura a quanto narra Svetonio dal male che pose fine ai suoi giorni venne qui poco prima della sua morte nell'ultimo suo viaggio per la Campania al principio del suo viaggio venne ad Astura ed essendosi trattenuto contro la sua abitudine all'aria libera di notte per codervi il fresco fu colto da dissenteria e ciò fu l'inizio della sua malattia dopo una breve timore a Capri morì a Nola né qui finisce l'influenza fatale di Astura anche il successore di Augusto Tiberio si ammalò in questo luogo poco prima della sua morte ecco ciò che narra Svetonio ritornò in tutta fretta in Campania e giunto ad Astura vi cade ammalato riavutosi un poco si imbarcò per il capo Circeo essendosi qui il male aggravato colto da paura egli si imbarcò di nuovo e prima di poter arrivare a Capri fu costretto a scendere a terra al capo Miseno dove spirò che aggiungere quando avremo detto che anche su Caligola successore di Tiberio Astura esercitò la sua malefica influenza qui Caligola sbarcò prima di morire si trovò disciplinio un piccolo pesce chiamato Remora appeso all'albero maestro della galera che portava Caligola ad Astura da Astura ad Anzio e ciò venne considerato come presaggio della sua prossima fine Astura mala terra maledetta noi pure innocenti viaggiatori doveva costringere a precipitosa fuga a noi pure doveva far provare ambasce di morte lasciando Astura decidemmo di prendere invece della strada lungo il mare quella attraverso la foresta di cui avevamo sentito vivamente lodare la selvaggia bellezza non conoscendola prendemmo con noi un soldato del piccolo distaccamento un bel giovane robusto e forte che doveva servirci per alcune miglia di guida e prestarci nello stesso tempo aiuto non già contro i briganti ma contro i tori e i bufali per un certo tratto camminammo lungo la spiaggia dove potremmo vedere dei tori neri tanto maestosi che Giove non avrebbe potuto averne dei migliori allora quando trasse in mare la bella Europa poco dopo ci trovammo in mezzo alla foresta camminavamo per ampi sentieri fra odorosi cespugli di mirto sotto la volta di gigantesche querce rallegrati da mille effetti della luce del sole che volgeva il tramonto il bosco presso Astura è molto bello pensavo alle mie spiagge natie alle loro alte querce diritte fra i tronchi delle quali si può scorgere l'azzurro del mare tutti i miei pensieri erano rivolti al passato è bello aggirarsi là per quei boschi spiando la comparsa dei cervi e dei caprioli quando sbucano dai cespugli e vi contemplano con curiosità alzando il loro capo coronato dalle lunghe corna qui invece balza talvolta fuori da un cespuglio la nera testa di un bufalo o di un toro e talora attraversa il sentiero un lungo serpente vario pinto la vegetazione è di una bellezza e rigogliosità tropicale l'edera raggiunge qui le proporzioni di un albero e si abbarbica le querce le circonda le avvinghia come i serpenti laoconte e pare quasi voglia soffocarle in un vigoroso amplesso e strapparle dal suolo sale su tutti i rami e giunge sino alla cima lassù dove hanno ricetto gli uccelli selvatici della foresta camminammo in tal guisa per alcune miglia assorti sempre nella contemplazione di quello stupendo spettacolo la nostra guida di astura laddove il bosco cominciava a farsi meno fitto ci lasciò dopo averci indicato il sentiero della macchia al di là della quale dovevamo trovare il mare lieti e felici continuavamo a camminare fra i mirti e gli olivi selvatici quando tutto ad un tratto ci troviamo di fronte ad un centinaio di tori ci fermammo subito uno dei tori a sua volta si arrestò stupito assò la testa ci contemplò con gravità maestosa poi si staccò dal branco e ci venne incontro in quell'istante il mio compagno chiuse il suo maledetto ombrellone bianco da pittore e subito il toro furiosamente spiccò un salto e tutta la mandria lo seguì una nube di polvere si levò tosto nel bosco e noi ci demmo a precipitosa fuga guardandoci ogni tanto indietro era un orribile e bello spettacolo il vedere quegli stupendi animali correre avvolti in una nube di polvere riuscimmo ad arrivare nel fitto della macchia e con le mani insanguinate per le spine ci cacciammo nei cespugli da dove potemmo vedere fra la polvere il luccichio delle corna dei tori mentre si udiva sotto i loro piedi lo strepitio dei rami infranti non vidi mai il terrore meglio scolpito sopra un volto umano come allora su quello del mio compagno e il mio spavento non era punto minore finalmente tutto tornò in silenzio intorno a noi la mandria furiosa aveva proseguito la sua corsa verso il mare riprendemmo la nostra strada per la foresta e spiando continuamente se i tori riapparivano uscimmo alla fine dal bosco e sbucammo sulla libera spiaggia credo di non aver sentito mai un'eguale soddisfazione nel rivedere il mare e mi toccava proprio provare ad astura sulle tracce di corradino quali siano le ambasce di una fuga precipitosa col pericolo della morte alla gola si sarebbe detto che uno spirito maligno il demone di quel luogo maledetto avesse testato in me tante dolorose memorie e avesse voluto darmi un'idea precisa di quanto ivi soffrì il povero corradino gli animali selvaggi furono però più compassionevoli verso di noi che non gli uomini per corradino proseguimmo la nostra strada e ci fermammo di nuovo per riposarci sulle rovine del palazzo romano dalle quali il melanconico castello appariva ancora più bello e più espressivo nell'incerta luce del tramonto la vista di numerose mandrie che coprivano la spiaggia sin quasi a Nettuno ci impensierì di nuovo ve ne erano alcune sdraiate in riva al mare altre salivano per ritornare come loro abitudine al bosco perché cominciava la frescura della sera passammo innanzi a cento e cento corna gigantesche ma gli studenti animali non ci fecero alcun male perché noi ci tenevamo rasente al mare al di sotto di essi apparvero infine due bei butteri i primi che avessimo incontrato a cavallo che galoppavano con la lancia in pugno lungo la riva e la loro vista ci rinfrancò felicemente raggiungemmo Nettuno e di qui con un senso di compiacenza contemplammo la strada percorsa e il castello di Astura che a quella distanza a quella dubbia luce emergeva come un cigno sulle onde del mare adesimo